Entro il 12 dicembre le aziende che trattano prodotti che contengono gas fluorurati, i cosiddetti gas serra, dovranno iscriversi a un registro che certifichi le loro competenze in materia. Chi non lo facesse incapperà in sanzioni. Purtroppo, nonostante la data di scadenza si avvicini, sono poche le imprese che trattano frigoriferi, impianti di climatizzazione ma anche meccanici ed elettrauti che hanno adempiuto agli obblighi di legge. Per questo la Camera di Commercio di Napoli ha voluto fare un incontro sul tema per informare gli operatori e fare in modo che non incappino in multe salate, come spiega Ferdinando Flagello, amministratore delegato del consorzio Promos Ricerche. Oggi ricordiamo agli operatori di settore che svolgono un'attività nell'ambito della manipolazione di gas ad effetto serra che per il 12 dicembre c'è un'importante scadenza, una scadenza obbligatoria che è prevista da una norma dello Stato italiano che ha ricepito una direttiva comunitaria del 2006. È una scadenza importante per questi operatori perché in mancanza incorrono in sanzioni dovuta alla mancata iscrizione, al ritardo dell'iscrizione presso il registro tenuto appunto dal Ministero dell'Ambiente. Pochissime sono le aziende che si sono messe in regola, c'è da fare infatti un'attività informativa ad ampio raggio per consente da tutti di poter conoscere di questo obbligo normativo e quindi provvedere all'adempimento.